Facciamo il possibile, bisogna anche guardare con fiducia al presente e va da sé anche al futuro, ragion per cui cerchiamo di fare tutto ciò che è possibile fare. Confidiamo evidentemente non solo nell'appoggio delle istituzioni come la Regione Marche, il Comune, Amat, già questo apporto c'è ed è sensibilmente apprezzabile, molto positivo e ringraziamo per questo. Come ringraziamo gli sponsor, speriamo di una risposta del pubblico che non venga troppo ossessionato dal tam tam continuo, che effettivamente, con questo non voglio dire che sia destituito di fondamento ciò che accade, perché di tutta evidenza che la situazione è quella che è, presenta una pericolosità proprio evidente, palmare direi, però è anche necessario e opportuno tenere la gente relativamente tranquilla, ecco, quindi bisogna andare avanti. Ecco, noi cerchiamo di mandare un messaggio di fiducia in questo senso. Il nostro cartellone prevede come prima uscita un concerto tutto dedicato a Beethoven, che mi permetto di dire sarà molto originale come programma, poi sentiremo meglio nel corso della conferenza stampa. Chiuderemo sempre con Beethoven in maggio con il quinto concerto in trascrizione Wunderkammer da parte del maestro Marzocchi, che suonerà e poi faremo anche la quarta sinfonia di Beethoven. E poi abbiamo un mix di appuntamenti che in qualche modo ricalcano quella che è la nostra attività, anche extra concertistica, mi riferisco al concerto per i 40 anni di carriera di Bruno De Simone, al baritone Bruno De Simone, che è stato qui appeso a ben 5 produzioni della ROF in anni passati e ultimamente è venuto come docente insieme alla moglie Alessandra Rossi nelle masterclass che abbiamo effettuato a Villa Pavarotti. Poi avremo il quartetto Mirus, avremo l'ensemble Locatelli con Alessandra Visentin in un concerto tutto barocco e poi se non erro un concerto di Marco Vergini, un concerto conferenza celebrativo di Dante Alighieri.